Gentili telespettatori, buona giornata. Gualmini del PD, annienta la Schlein, ma parlate di nostalgici, ma come si fa? Questi stravincono democraticamente dappertutto, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, come Aiazzone, ma come si fa a parlare di questi stravincono e voi sono i fascisti? Grande la PD Nagualmini, vedete che nel PD non sono tutti uguali, ci sono persone che intelligentemente dicono come siamo messi, come siamo finiti in basso, un partito devastato dal risultato pessimo delle amministrative di fatto. Adesso la resa dei conti, per i conti se ne occupa mio zio Antonello. Ecco, per i conti se ne occupa mio zio Antonello. Bene, il primo segnale è che il partito non ha metabolizzato lo schiaffone, tipo Bud Spencer del centrodestra. La Schlein non è andata più a Bruxelles, si è depressa, dice no ma non ci vado più a Bruxelles, non ho voglia, mi sento giù, non ci vado più a Bruxelles, rimango qui in Italia, in Emilia Romagna sono scappata, ho perso le lezioni, ho detto che colpa di Letta, ha fatto lui le liste, povera Schlein, non è colpa sua, non è colpa sua. Una scelta, quella di non andare a Bruxelles che ha scalettenato le lingue biforcute del PD che dice la Schlein in difficoltà è già sul banco degli imputati per il disastro alle amministrative. Eh sì, altro che lingue biforcute, lingue giuste, ma le chiamano le male lingue perché criticano la capa col fazzoletto rosso e lo sguardo arrabbiato. Il risultato elettorale era prevedibile fuori dai palazzi, salutiamo Pino dei Palazzi, dalle redazioni dei giornali, dei centri storici radical chic noi non esistiamo. Ma ti pare che uno prudente come possa mai, non sia mai, avrebbe potuto dire a Elly di non venire a Vicenza a fare comizi con lui se non fosse stato più che necessario? Eh, come dire, quello che ha vinto a Vicenza è l'unico che ha vinto dicendo non venite qui per l'amor di Dio, non mi rovinate le lezioni. Ma la euro-euro, no, la eurodeputata Demme Elisabetta Gualmini critica aspramente le prese di posizione del partito, la narrazione del paese fatta in questi mesi. il famoso cavallo di battaglia che la Schlein ha cavalcato con tutte le bandiere rosse partigiane, fascismo al governo, tanto caro al PD. E così la Gualmini dice, il PD dice no a tutto, no al taglio delle tasse, no al premierato che avevamo lanciato noi, dice, no a tutto, aggiungendo che al governo abbiamo i fascisti. E le nostre proposte non si capisce quali siano. Come si fa a convincere gli elettori? Forse la balla sul fascismo comincia a stufare persino gli amici della Schlein. Eh sì, che figura? Cioè una eurodeputata del PD che dice che il PD non vale niente. Non vale niente, come dicono in Sicilia. Non vale niente. Il PD dice no a tutto, come i grillini. No al taglio delle tasse. Come si può dire no al taglio delle tasse? E poi no al premierato, che era stato proprio il PD a lanciarlo. No a tutto, dice. E poi al governo abbiamo i fascisti. Quelli del Consiglio dei Ministri sono tutti in divisa nera, col cappello con l'aquila dorata, no? E la russa col fez, sapete il fez di una volta, quello con, c'aveva il cordoncino con una specie di coso, che tu giri la testa e sto fez ti va di qua e di là, no? Ecco, tutti, il Consiglio dei Ministri, tutti vestiti di nero, con qui le insegne del partito, di qua tutte le onorificenze militari, tutti vestiti di nero col cappello, abbassiamo le tasse, abbasseremo le tasse agli italiani. Ecco, insomma, nell'immaginario, nell'immaginario dei sinistri, il Consiglio dei Ministri sono tutti vestiti di nero. E la Meloni poi che passa davanti a quel balcone, a Palazzo Venezia, e pensa, che faccio? Faccio un salutino dal balcone? Che faccio? Lo faccio un salutino? Eh? Magari mi metto sta giacchettina nera? Bella tutta 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 nera? No? Esco e dico, italiani, volevo solo salutarvi. Sotto la folla applaudente, no? Decine di migliaia di persone che inneggiano alla Meloni, che ha fatto la capatina sul balcone. Sono stato a Roma, a proposito di balconi, era la prima domenica del mese di aprile e c'erano aperti tutti i musei gratis. Noi siamo in quattro, insomma, abbiamo sfruttato la domenica dei musei gratis perché quattro paganti, insomma, per le mie tasche cominciano a essere, visto che a me piace andare per musei, siamo andati a vedere il museo di Palazzo Venezia. Palazzo Venezia, sono arrivato fino al Salone del Mappamondo, dove il dittatore spadroneggiava. Salone del Mappamondo, perché c'era un Mappamondo enorme e lì c'era, praticamente, era l'ufficio del dittatore, ma un ufficio che sarà a 500 metri quadri. È un salone antichissimo, bellissimo, una cosa, però vuoto, non c'è più niente. Passo davanti e dico, ma questo balcone qua, questo è il balcone da dove si affacciava e dichiarava guerra a mezzo mondo. Mi sono fermato ad osservare questo balcone, un balcone piccolissimo, sarà neanche un metro di profondità. Adesso ci sono le bandiere d'Italia, dell'Europa, c'erano delle bandiere, si vedeva tutta Piazza Venezia. Mi sono soffermato a vedere un po' questo balcone storico, delle dichiarazioni di guerra. All'interno, questo balcone, come nell'antichità, a fianco alla finestra, ha due cose così, dove la gente poteva sedersi e chiacchierare davanti alla luce del balcone. Questo è quando hanno ideato il palazzo. Quindi c'è questo finestrone, con questo piccolo balcone, dove parlava il dittatore, dove dichiarava guerra a mezzo mondo, il popolo plaudente, e così sono rimasto lì qualche decina di secondi a fissare questo balcone storico, un balcone protagonista della storia d'Italia nel bene e nel male, più che altro nel male. Quindi un balcone diventato famoso proprio per le dichiarazioni di guerra agli Stati Uniti, a tutta la Francia, all'Inghilterra. Ecco, la sinistra si immagina che la Meloni passi davanti a quel balcone e diceva che faccio un salutino? Ci sono solo le macchine che passano, però magari se esco fuori si raduna una folla. La sinistra si immagina la Meloni che vuole fare il salutino dal balcone di Palazzo Venezia. Arrivederci a tutti e grazie.